Se procederei con Ivano Bosisio, Head of Clienti Diretti e Broker di Generali Italia, oggi sostituisce in forma ufficiale Francesco Bardelli, CEO di Generali Vailion, ritirando il premio per il progetto Benefit. Le chiedo in che cosa consiste e che benefici sta dando a chi lo sta utilizzando. Grazie, innanzitutto grazie per il premio e soprattutto grazie perché è un premio che arriva per Generali in un ambito che non è magari il più conosciuto. Noi diciamo sempre che facciamo welfare dal 1831 perché in sostanza le soluzioni assicurative che offriamo hanno aiutato a creare un welfare anche diverso da quello statale integrativo. Noi quattro anni fa abbiamo avviato un percorso ancora più focalizzato sul welfare, il generale ha creato in Italia una società dedicata che si chiama Generali Vailion che ha voluto fare due cose e sta facendo due cose, capitalizzare tutta la nostra esperienza sul mercato ma anche portare fuori sul mercato quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo per i nostri dipendenti. Proprio in questo senso abbiamo mappato tutti i benefit dei nostri dipendenti e poi li abbiamo esposti anche al mercato proprio come un catalogo di benefit che noi possiamo dare avendoli già testati internamente. Quindi già con una prova e un testo su una popolazione ampia di più di 10.000 persone in Italia. Benefit sta seguendo lo stesso percorso. Che cos'è Benefit? Benefit è un'app che abbiamo localizzato in Italia ma deriva da un'esperienza pluridecennale partita dal Sudafrica con Discovery che ha stretto una partnership con Generali e ha lanciato questa app di engagement in altri paesi europei. Noi l'abbiamo lanciata in Italia l'ottobre scorso sulla popolazione dei people manager di Generali cioè su chi almeno gestisce una risorsa all'interno della nostra struttura. Che cosa si prefigge Benefit? Si prefigge di migliorare l'engagement delle persone e il movimento delle persone con delle challenge settimanali molto semplici, numero di passi, numero di ore di attività fisica con dei piccoli traguardi e obiettivi incrementali quindi senza che nessuno debba diventare per forza lo sportivo o l'iron man di turno e in base a questo assegna dei reward tangibili. Benefit una volta che viene data al singolo dipendente viene completata con tutta una serie di informazioni personali in merito a come la persona si muove, come la persona mangia, come dorme ha la possibilità il cliente di caricare alcuni dati delle proprie precedenti analisi mediche ad esempio e Benefit assegna un'età, la cosetta età Benefit che solitamente è qualche anno più alta dell'età una grafica proprio per incominciare a stimolare la challenge iniziale dopodiché settimana per settimana assegna delle piccole challenge se la challenge viene raggiunta Benefit da un reward immediato quindi la possibilità di avere un buono sconto di 5 euro tangibile su alcuni nostri partner Amazon, Zalando, Adidas ad esempio sono i partner che abbiamo selezionato in questo primo momento oppure dalla possibilità di donare questi 5 euro all'iniziativa di charity internamente noi lo doniamo a The Human Safety Net Foundation di Generali oltre a questo c'è la possibilità di avere sconti ulteriori su una serie di Benefit quindi viaggi, sconti dal 10 al 20-30% sugli viaggi di Expedia oppure anche di avere un cashback sull'acquisto di un orologio Apple che permette quindi nei due anni di percorso di avere il completo ritorno di quanto speso al di là di questi tangibili benefici il programma mira a stimolare un movimento sempre più frequente e incrementale della persona l'abbiamo lanciato appunto sui nostri people manager lo scorso anno abbiamo avuto un adoption tra il 25 e il 30% che per un programma del genere è già un adoption abbastanza rilevante su cosa ci ha aiutato? a capire che le persone che si muovono meglio si assentano di meno al lavoro quindi un tasso di morbidità significativamente più basso sono significativamente più soddisfatte quindi crediamo che esportare anche adesso sul mercato questa soluzione ci possa consentire di aggiungere un altro mattone magari un pochino più innovativo rispetto alle soluzioni di welfare che già offriamo sul mercato grazie, grazie mille grazie mille